mi rendo conto che avete dei colleghi molto strani ragazzi ah in pingo grazie per i 5 a manatino quindi Lilia vieni qua che ti do un abbraccio ti do un abbraccione virtuale allora adesso dobbiamo giocare ok perfetto ci siamo oh che cazzo è qua no fai forte no dobbiamo finire il gioco hai un'orecchia mezza spenta penso sia un riflesso della luce dobbiamo far fuori persone ho avuto un colpo ho troppo caldo ragazzi sto morendo di caldo trovo il dottor dove cazzo lo trovo scusami e dove in verde lo devo trovare il dottor giblet abbiamo fatto un passaggio beh non mi direi scusami che ci sono le zanzare in camera tua ma scusami questo partito non la voglio già fatto hey welcome to blordo's I am blordo you here for the food? or the other stuff what do you mean other stuff? nothing 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 forget I said anything no come on we're good cioè roba segreta ah il disco di teletrasporto ok no allora questa parte ce l'aveva salvata va bene dobbiamo solo capire dove merda dobbiamo andare adesso we today we have a great special get over here come on I on life è un gioco bellissimo ma sbracherà da ridere oddio ragazzi non mi ricordo più pensavo droga ragazzi non mi ricordo più che cazzo dobbiamo fare no non mi dice niente tra l'altro l'indicatore della mappa dove merda dobbiamo andare sono a 23 gradi in camera mia ci saranno 40 scusa noi ah ok aspetta noi eravamo tornati a casa dopo essere stati nei sotterranei e aver preso gli stivali ok ora mi ricordo siamo tornati a casa dopo aver preso gli stivali per la camminata quello che devo capire è che cazzo devo fare adesso su Zephyr ma Zephyr mi devi aprire il teletrasporto però scusa su Zephyr e dove merda è il teletrasporto ragazzi qualcuno sa dove merda devo andare sono molto perplesso perché Iron Life è il gioco fa morire da ridere però prima devi andare nei bassi fondi ma ancora ci sono già stato ci sono già stato ho preso anche le scarpe ma sei sicuro? ragazzi scusate qualcuno Bassotline grazie per il nome palatino ben trovato per l'armata grazie mille per il risav scusate qualcuno mi dice dove cazzo devo andare perché non riesco veramente a capire dove merda devo andare raga nei bassi fondi sono già stato ho preso anche le scarpe non mi dice andare al portale deve attivare una cosa torna lì ma quello di casa mia a te mille per il nome Bassot ma secondo te se mi faccio un tatuaggio a tutta schiena il giorno dopo potrebbe darmi problemi per lavorare? se devi appoggiarti con la schiena si secondo me si ma non ti conviene farlo tutto insieme ti conviene dividerlo in pezzi anche perché non credo che un tatuatore ti tatui letteralmente l'intera schiena in giornata però se ti devi appoggiare bisogna metterci la crema quindi secondo me si ma parliamo parliamo del portale di casa mia devi andare da quello del menu del menu come quello del menu ah devo farmi aprire vai a quello di casa ragazzi vai a quello di casa tua mi avete detto quello seconda scheda ah ok quindi non posso farlo perché ah ok devo prendere la seconda scheda da quello dei panini ok il portale di casa mia non fa niente raga allora andiamo a quello dei panini prendiamo la seconda scheda aspetta eh perché vogliamo 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 andare a ammazzare anche sto qua però secondo seconda scheda dal menu di casa tua ne hai tre sulla sinistra allora aspetta stiamo facendo bordello aspetta un attimo allora seconda scheda del menu di casa tua ne hai tre aspetta un attimo che cazzo eh che cazzo ah ok 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 eh ma quale oddio è quale la giungla altavalle ora dura non mi ricordo più qual è solo uno in che senso solo uno solo uno va questo qua ah ok questo qua per altavalle ok andiamo ah grazie ragazzi non ci avevo mai fatto caso questa cosa qui mica aspetta arrivato già subito così eh la madonna che bordello non ci avevo mai porca troia natan grazie per la sabbara tiro benvenuto per al martedio ma non voglio morire sta usando tutto beh in teoria per giocare bene bisogna giocare così poi sono io che faccio il cartone e non uso mai niente ma come deve ma come deve entrare nella giungla no va bene mi dà la mappa mi dà l'indicazione mi dà l'indicazione evidentemente si può arrivare anche da qua il pop up di spam sarà un po' più lunga ma si arriverà anche da qua anche perché ci sono troppi nemici per non essere ci sono veramente troppi nemici perché non sia ma troppi nemici troppi nemici tutti insieme non sto capendo una sega cos'è che ho già trovato la famiglia di Cass non sto capendo una sega sono diventati sempre più molesti i livelli ma veramente più molesti dammi il cristallo guarda che carina la pistola tra l'altro magari mi sono perso delle casse ma non mi sembra di vederle in giro delle casse quindi se premi scivolata cos'è scivolata? che cazzo però che cazzo però fortuna che da qua sono più o meno coperto come on come on give knife you taste come on let's do shit let's do this chef va diventando call of duty nooo che rompi ragni che ci sono queste merde spero mi dia un fucile da cecchino ve lo giuro spero tantissimo che la prossima arma sia un fucile di precisione in questo gioco ci vuole ci vuole tantissimo è morto questo casse zero no dai sei un merda no io ci entro un merda un cazzo io qua ci entro dimmi che posso usarlo dimmi che mi apri la porta ti prego yes camera uterina creatura o può mantenere in vita più figli alla volta ah figo beh questo può sempre essere comodo effettivamente perché tanto lo uso per i feti del controllo mentale sono abbastanza usati da me quindi ah dimmi che posso camminare sulle pareti dai ti prego dimmi che posso camminare sulle pareti bellissimo epico che è successo? attimo un attimo oh my god what happened G3 base warped right through here right 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 was and uh well it shot me right in half I got cut in half ma no poverino oh my god it was probably doctor giblets oh god oh god I'm fading fast please please just stay with me while I die I don't want to be alone you had to do it you had to put him out of his misery it's a really annoying borsa with a broken leg you know you understand scusate volevo porre fine alle sue sofferenze per cui eh poverino mi dispiace era anche simpatico lui lo abbiamo visto un sacco di volte che ca... is this doctor giblets his base where the hell is it oh I'm sure we'll be able to find doctor giblets with just a little bit of detective work let's look around for clues jesus christ okay okay fine oh that's a lot of dead bodies what do you think happened in here whatever it was it's not a good situation for everyone who died but it's great for us detectives because we need a good mystery it's like it was deployed for combat nothing fishy there that's what they're used for that's what drone is for combat it's not weird to see a destroyed drone someone was killing g3 marks you know that makes sense everyone hates the g3 ma che cazzo di computer d'aiuto sei look at you that's what you're doing questo non me lo fa fare questo l'ho fatto qui ci sono dei piedi giustamente because why not dei piedi non guastano mai in qualsiasi gioco e li ho fatti tutti scusami mi li dice già fatti tra l'altro quando iniziate il gioco eh o un po' di giorni fa patatino trovi tutto comunque sul mio canale youtube andrea c'ho notato tube se vuoi rivedere andrea che fai che cazzo vuoi non mi possono piacere i piedi alieni non ho capito scusami non fare il razzista in tre specie si mi è venuto un infarto grazie si mi è venuto un colpo ma grazie cerchiamo altri indizi ma io qua indizi non ne vedo quello viola ah quello forse aspetta questo qua quindi la conclusione è che non sei un cazzo di niente vediamo un po' qualcuno sta facendo il cacciatore di taglia al posto nostro questa cosa è intollerabile non possiamo premettere non so poco il lavoro oh shit sorry wrong bit wrong bit i mean how do they are detectives oh this looks like the lab or doctor giblets did his experiment there's gotta be something helpful in here let's get to scanning we got this pseudo get the fuck out of here was this the skifo queer look at all these drone heads doctor giblets was an expert at creating cybernetic organisms but we already knew that you know i don't think this is a very helpful clue i do think it's neat though it's cool to look at fucked up drone heads thanks for showing me this was he doing experiments on his own henchmen jesus christ that's fucked up right yeah that's fucked up i know it's fucked up i don't know why i asked i knew it was fucked up dr giblets must have been living in my mind these must be old hyperbond prototypes way jankier than the ones they're selling at the high on life store well you know we just pointed these out now we can move on to the next thing comunque io non mi fido neanche del sindaco in theory dr giblets was even more twisted than we could ever imagine he was torturing his own henchman he wasn't right in the head although i guess that's what douglas did too so maybe that's normal for the g3 maybe he was normal no way to know unless we go deeper i'm hacking the next door questa è magia secondo me la battaglia col dottore sarà un bordello but i'm sure there's more clues in here so go go find more clues baby sto casino oh shit that's a g-gatleon a regular old gatleon doesn't look like it's in good health at all probably should just let it be honestly aha so that's our murder weapon dr giblets must have used that modified gatleon to attack his men it's pretty powerful did a lot of did a lot of damage it'd be great if we could somehow get that gatleon for ourselves you think that's gonna happen who knows let's find out beh se è una nuova arma la voglio assolutamente la voglio quell'arma jeez it looks like dr giblets was pissed you didn't get first place in science oh boy did dr giblets write this he was really paranoid huh he really thought people were trying to kill him and you know what uh he was right because that's exactly what we're here to do so okay he was right not crazy normal guy effettivamente okay i think we finally cracked this case dr giblets really did go insane he was paranoid that someone was after him so he killed his own men while you were wasting time doing detective work i was busy scanning the area for dr giblets and decrypting the password on his security systems now you can just follow the way point right to him wait so we didn't have to find any of those clues yes sorry i just love detective mode so much i didn't want you to stop using it no io voglio quest'arma dai ti prego voglio quest'arma qui dai no dai ti prego dimmi che dopo me la fa prendere quest'arma perchè io la voglio quindi ci ha preso per il culo il teaser quindi ma è lui? orca buttana che paura ma come ma ma come ma ma come ma come scusami ma avevo appena detto secondo me la boss might sarà difficile ma come ma come che cazzo if you are hearing this pre recorded message it means you successfully managed to murder one of the greatest minds in all of super science congratulations you killed me but i knew this day would come and i was prepared for this moment now see you can survive my retribution from beyond the grave oh dio i should have fucking known it wouldn't have been so easy ma scusami se non si fosse se non mi non fossi stato lino la vera and i bussava and you are trapped in here fallas prey to my glorious science you are ever so jealous of that's right krimethe i know it was you but you saw you kill me but for what The inheritance Mela or just a playdoh space tapa death No matter, just as you have done problems while killing your own father, I shall gladly spill the blood on my first board! Merda, merda! Non mi sento molto bene! Che bordello! Merda! Ti prego recupera vita perchè sto male! SON MULTO MALE! Dio, am so glad we got the jetpack! Buon jetpack, che si salva il culo! Eh? Eh? I feel alive Ok, is that it? Hmm, if you're hearing this It means you made it past my first onslaught Perhaps you aren't my son Krimothy, yes Yes, I was wrong How could I have been so blind? I know who killed me now It was you, Kurubis What? He thinks Kurubis killed him? Jay, Kliess Jesus Christ, how many of these did he record? Kurubis, Kurubis, Kurubis Are you complaining about being the lowest rung on the G3 ladder? You thought you could kill me and take my spot to the top, didn't you? Well, think again, because Well, you did kill me actually I'm going to kill you back Look here Looks like there's more coming How appropriate Kurubis That after all those years Stuck behind mountains of paper work You finally got to get your head dirty again Just like you wanted I really feeling proud of you But you picked the wrong Dirt Mi credo che in tutto questo è il titolo, ma c'è nel viaggio che qualcuno l'abbia ammazzato. Sì, si è suicidato, quell'imbecile del dottore è stato facendo tutta l'analisi su chi l'ha ucciso e come mai. E' proprio un coglione questo qua. Il cazzo è che mi sta sparando. Il cazzo è stato troppo forte, mi ha ucciso. No, no, tu dovresti essere qualcuno. Ma chi è? Chi ha ucciso? Tu, Douglas? Tu non mi hai mai detto il tuo ultimo nome! Ora pensi che sia Douglas? Oh, madonna mia! Che fatica! Che cazzo di boss, vai! Il cazzo è il leader? Con uccidere il scientifico! Io! Questo sicuramente dolce i sentimenti. Ma era un errore di pensare che puoi solo andare fuori e essere vivo! Oh, cristo! No, questo lo devo controllare! Non lo devo controllare! Io anche ho fatto fotografie! Perchè... ...seglievo che mi ha ucciso! Per rinforzare queste fotografie! Cosa erano? Cosa erano? Ho rinforzato il mio computer per postarli sull'intranet. Il sch pud Rose- el perchè rinforzato gli ioi mischi di cambiare ieri i pesce blunu? Ah, Sì! Ho rinforzato la gange? Cosa erano? Che fatiga == Cosa erano di usboere le bambini? Cosa erano della taglia? Cosa erano della taglia di esseri in attivano loro? Che ci heavy! Cosa erano delle utili nostre terapie? chi è? che è? che è il secondo in comando? come on? Ma devo provare! Come ti fai, Niphylar? Ti stai guardando in là? Cusavo che sarei tuffo. È una cosa da servire nel G3, ma non ho bisogno di essere concentrati il corpo è ideologico. Mi avevo davvero rispettato quando ero vivo, ma poi mi ha ucciso. Quindi mi preoccupa, ma devo portarti! Islas del G3 Oh-oh-oh-oh, Sto male Che burdello ragazzi No 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 merda che fatica ma è difficilissimo sta cazzo di boss Avevo ragione io era un bordello sta cazzo di boss Ma è un bordello cazzo Ti prego non dall'inizio però dai Ok da un checkpoint meno male Ok dal checkpoint quello è l'importante Come scappa dalla base Come scappa dalla base Come scappa dalla base scusami Oh sono bloccato mi succede aiuto Siamo dei cazzi Come scappa dalla base Come scappa dalla base All right, that's got to be it. Ok, this is my final message. If you're still alive to hear this, then I've made a great mistake. I was wrong. Only one person could have survived all of that. Myself! I killed myself! Finally! It makes sense, you know. I always hated myself. I know I get the guts to do it one of these days. Good for me. Oh, that's dark. So, ok, I killed myself. Oops! My apologies to whoever's hearing this. I hope you'll forgive me for making you go through all of that. You can leave now! Have a good day! Giblets out! R.I.P. Giblets! Wow, ok, good, good, good work! I think we can get back out through the trapdoor now. Eh, dove merda devo andare, però? Beh, dai. È stata impegnativa, ma neanche così esageratamente, dai. Ora però voglio quell'arma. Non me ne frego un cazzo, ora voglio quella fototissima arma. Beh, dai, pensavo peggio. È stata anche abbastanza veloce la riscossione. Oh, eh... E' talmente vivo? Voi proviamocivoli a Gene Gene lo sa... Non posso vedere com'è vero? No, non posso Chissà che cazzo di aroma è Io... Voglio dire, vabbè, oggi ha davvero significato molto a me E... Come è? Il tuo gratuito di detective è inuto Allora, vado a ciò, ciao! Oh, grazie a Dio! Ok, Bounty Hunter, vai via i menu, hai trovato il modo detecutivo, hai scopo il fuoco! Non ancora, ok? Guarda questo! Hai trovato il Dr. Giblitz all'inizio! Si? Non c'è una traccia traccia! Nooo! Ok, quindi abbiamo trovato il Dr. Giblitz, um, è morto ma abbiamo trovato anche un altro Gatleon! Oh, c***o! Non lo so di questo, non è veramente funzionale, non credo che sia morto, ma... Oh, c***o! Si, si è rubato davvero male, cosa hanno fatto con lui? C***o! 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 Prendiamo i soldi! Prendiamo i soldi! Dica! Prima la cattiva! Sempre prima la cattiva! Oddio santo! Hanno rapito mia sorella! È la voce di Morty, perché è ciò che è stato creato dai produttori di Ricca Morty! È la buona... Ah, perfetto! Ah, perfetto! C***o! No, 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 no! Figurati! C***o! Quella buona che l'ha rapito! C***o! Vai in camera da letto? Le pistole reagiranno alla tua camera? Non posso! Il piano di sopra è bloccato! C***o! C***o! Posso sedermi sul divano? Oh, certo! Possiamo usare un piccolo ruolo! È bello di sfruttare un pochino, sai? Prendere un piccolo napo! Oh, sì! Oh, sì! Uggh! Cambia il canale, Gene! A porn! Buongiorno a tutti! Siamo guardando le 4! Allora, Bounty Hunter! Andiamo all'Appleby's e troviamo la tua sista! Ah, ok! Quindi posso far riposare le pistole! Ah, posso salire in camera ora! Quindi, uh... Che cosa ti faccio qui? C'è qualcosa di grossi? Ti devi dire! Sì, seriissima! Siamo i besti amici ora! Allora, i ragazzi! Noi, 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 i ragazzi! Andiamo nei bassi fondi! Nel frattempo gli lasciamo le pistole qua! A riposare! Allora, come ho... ...e... 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 Sì, perché le pistole sono una specie aliena! Le pistole sono a tutti gli effetti una specie aliena! Che vengono usate come arma! Proprio come gli umani in questo gioco vengono usate come droga da fumare! Ehi! Scusami! 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 Cosa stai facendo? Scusami! Qual è il problema? Che c'è che hai fatto? Dimmi tutto! Che c'è? Di cosa mi vuoi parlare? Dimmi che hai fatto! Allora, Kenny! Stai parlando di te stesso ora! Possono senti te! Non è così difficile! Scusami tutto! Che c'è? Che hai fatto? Di tutto! Ha! 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 Mi sto preoccupando! Ha! 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 Che c'è? Che cosa hai fatto che... Eh, son curioso, cosa hai fatto di così traumatico che mi devi tenere nascosto? Eh, prima dimmelo, no, non fare quella faccia triste, dai, non fare il musino triste che mi... Ok, siamo, eh, siamo andati a Applebee's in the slums, e... That's where we're going, in the slums? Non ci vuol dire, vediamo cosa vuole... Sono veramente curioso di sapere cosa ci vuol dire Ah, ma è vero che qua c'era il negozio Iron Life Hello? Welcome to Applebee's, table for two? Right this way Oh, actually, we're wondering if someone named Twig is working today He didn't shop for a ship, sorry, do you still want a table? Um, you know what, you know, maybe this is a good spot to talk... Eh, ok, vediamo di... No, non ha spiegato il motivo, non ha ancora fatto il motivo... Fai la sub così non ti schippi la pubblicità, Black Dimmi, che c'è? Ok, ascoltate, scusatevi per fare un sito qui in Applebee's I know, siamo davvero concentrati su Lizzie, e questo è una cosa importante Ma... Certo Ok, grazie, sai, 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 sai... Sai, 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 se non c'è qualcosa Ok, ok, so you remember what happened on my home planet, Gatless It got taken over by the G3, like yours, you know All my people got enslaved, you, you remember that, right? You know all that, right? Sorry, of course you do Well, what if it was kind of, you know Just a little tiny bit entirely my fault? Ok, I can see you're at a loss for words I, I, I know how it sounds I'm not the only reason the G3 invaded Gatless Sono solo l'unica ragazza che si conoscevano l'inizio nel primo posto Ciao, benvenuti ad Applebee's, sono il vostro percorso per il giorno Posso portarti con uno dei nostri cocktail signatari? Non ora, porremmo, siamo un po' più buschi qui Sangria bianca di pesche, Long Island Ice Tea, Capitano Banana Mama Mi dia un Long Island, per quanto sia Ok, certo, vado a seguire e prenderlo per te Uh, thank you Ok, bounty hunter, so let me explain Gatlas was isolated on the far edge of an asteroid belt We were completely untouched by the greater interstellar civilization Just like your planet But, you know, I wanted out Like, I wanted to see the galaxy I wanted to see what everything out there had to offer That's when Rel Del Mar crashed his ship into our planet He was this crazy smuggler He'd been all over and he'd seen it all And, 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 and after I helped him fix his ship He wanted me to be a part of his crew You know, and he took me with them And I'm back, here we go, this is for you All right, now what were you thinking for an appetizer? Uh, I'm sorry, we're in the middle of something, please Alette di sossate croccanti Salsa di spinazze e carciofi Quesadilla con pollo Alette croccanti Great, it's coming right up Oh, I don't know why I picked Applebee's to tell you this But where were we? Okay, oh, right Um, obviously a guy like Rel You know, he had to deal with all kinds of shady customers And, well, you know, that led us to the G3 And Garmantuous, you know, he'd never seen an alien like me You know, a talking gun with endless firepower And, well, looking back, you know, I see how stupid I was, you know, I really do But at the time, I couldn't tell, you know, I was being taken advantage of I was going nowhere No, everyone thought I was a fuck up, you know I just wanted to prove to everyone that I could do something, you know Open up, here comes the appetizer train Chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuka-chuk-chuka-chuk-chuk-chuk Thank you, I hope you like those Now you better be ready to order that main course In filetto in crosta di pepe, salmone annerito al kajuni in salata di gamberi thailandese. Facciamo un salmone annerito. Sì vabbè ma qui ci stiamo ordinando troppa roba. Sì vabbè, non è tanto. Vabbè, graffi, basta. Vabbè, graffi, basta. Ma scusa, è nostra sorella che ha rapito. Ma quindi è nostra sorella che ha rapito Twiggy, non è Twiggy che ha rapito la nostra sorella. In real life too, not just in this game. I'm here live in downtown Blim City where, as you can see, we've been invaded by violent and agitated G3 cartel forces. No one can say for sure why they're here. We're here to kill you, bounty hunter. Ha 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 ha. Ah, okay. Well, there you have it. It looks like this is only a villain if you have that bounty hunter that they're trying to kill. I'm Evil Fakagen, Blim City dealer. Stay safe out there. Message vocali in arrivo. Uh, so I've got some more bad news. Pure. Ma, ma sei un coglione di merda, ma come l'indirizzo di casa mia, ma... Ma sei una testa di minchia, ma... Ma come, ma è un deficiente, ma ha messo il mio indirizzo di casa, ma... Ma come, ma è un deficiente, ma ha messo il mio indirizzo di casa, ma... Oh, uh, okay. Pretty easy when we're up close. Hey, well, don't shoot the hook bug. That's probably somebody's pet. Too easy. Ma che portello. Okay. Okay. Che burdello. Il nuovo Zelda potrebbe essere un'idea. Però mi dovrei riuscire a capire come collegare la Switch al computer. Questo è il problema principale. Per il resto niente, niente di impossibile. Eh, si sto provando? No, 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 no. Merda. Eh, no, 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 no. Ehi, papà! E' bello, e buono, e facile. Vediamo se a scantare in casa, perché non rimaneremo mai da fuori. Abbiamo ancora due persone così speciali che sono molto preoccupate di te. Vieni a te e nessuno deve essere scattato. Non ho bisogno di tua scuola. Non è la tua scuola. No, non ti f***vi. È la tua scuola. Hai f***vi enormemente, ma ciò ciò ciò. Perchè, f***vi il corso di caldo, siamo arrivati! Recupero due pistole, eccolo qua. Non mi ricordo, non mi ricordo dove è quello del teletrasporto! Dove merda è? Non mi ricordo, ah ok qua. 6,2,1,3,5-410,1,0! C Allison e, H caffoxi rootsa je Mai, in cui 15Лs è super fiare spessore, nit bile, 6 e 4,5-6 e 7 e 5,e 5 la cosa deve essere? Trezzate che sui fisici, 6 e 4, 3, 3, 4, 4, 4. F***vi il corso di caldo! 5 2, 3, 4, 5, B Mitolni, 2, 4, 5, 4. Non mi ricordo sì che è stata questaểmina perché è l'in殊azione della stazione della scuola che sono scuola. E lo puolo, la sicura What is la lunga quindi le istante di caldo... 555, ovvero... 4 3, 2 1 1, 8, 7 4! Ok, abbiamo! Già il tempo! Eeeeee... Ehi, andiamo! Oddio, dove è merda ci siamo teletrasportati? ok non sento più suoni quindi da qualche parte siamo retrasportati esatto sarà il suo pianeta natale dove ti prendeci noi? è stato l'unico paese di sicuro che potevo pensare attenzione, è tóxico qua lì ho impostato un pianeta natale quindi... non vengono troppo vicino o faccio che non importa più a casa sarà mezzo sfasciata perché... benvenuti a gatlis perché non ho il pianeta Gesù non ho capito che era così buono c***o, non c'è niente questo era il nostro casa? molto presto l'unico paese abbiamo bisogno di stoppare il G3 c***o sorry, nessuno mi risponde io ho bisogno di usare il nostro casa? qualcuno? riunisci di con Gene? questo è il pianeta natale dei Gaeliani cioè quello che ne rimane quantomeno ciao Sì 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 Eh ma Sì 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 Ma come fa la tv ancora andare? Scusami come è possibile che la televisione vada ancora? Sì A quale fonte di energia è collegata? Sì 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 Apri il pacchetto carino Ma come hai fatto a procurartelo su sto pianeta scusami Sì Let's get to business I've got something you like Cioè You can breathe easy, I'll get right to it I tracked down Lizzie's bio signal Oh, that's great Sì Sì E questo qui Ma scusami ma I don't know what I want Ok fine, I don't know either Isn't the sex gun? I don't know, I can't even tell if we're doing it right We're aliens None of our shit even lines up correctly You could be pregnant and I would fucking wonder how that happened My cum goes all over outside of your body Well, okay I don't know if it's good either Your body is really confusing God, I'm just so confused Aren't we in love? You're asking me that? Dude, you're the one who dragged me out on this trip I wasn't looking for anything serious I just wanted to get laid But even that turned out to be some weird Fucking Hellraiser puzzle Hellraiser puzzle There's plenty of ways you could have figured out how to use my equipment So to speak Hey, sorry to interrupt Oh yeah, thank god You came just in time to save me Me is who you came to save Thank you Fuck your sister, dude Cuckoo Girls, am I right? Love is tough What the fuck are you doing here? Uh, I don't know, we're a little worried about you Oh god, everyone needs to chill out When have you smoked? What, you're a smoker now? Wait, what is it? Camels? Marl... 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 I don't know What's it to you? What do you want? Well, I don't want to come home It's not even my home anymore It's Jean's Jack-off mansion And it's your little clubhouse Where you can unwind for a few minutes Between boutts of... Oh, I don't know Murdering criminal gang lords? Hey, I'll go home You can take me home How about that? I'm your new sister Congratulations. Just give me the fuck out of here No, you're staying, Twig We're in love Say it Say we're in love Okay, never mind I can't go I have to be in love with your sister I have to be sensitive, but it's dangerous out in space for humans right now We even got chased out of Blimp City by the G3 Wow, really? Yeah, it was rough Listen, I get that there's a lot right now that's bothering you But can we convince you at least to just come home with us and figure it out there? But I'm busy Being in love With Twig Uh... Yeah, we're busy We're busy Sorry So just leave Unless... What else were you worried about? Sembra che tu abbia il problema di niente Sembra invece, forse posso aiutare, boh Oh, yeah? Tu e Twig dovete lasciarvi Yeah, how about you just let me handle this on my own? You already decided to become a weird alien killing expert Don't strain yourself trying to be a dating expert too Um, yeah, no offense, but you're kind of butting in, dweeb Hey, only I can talk to them that way Ma posso sparargli così ho risolto il problema? I'm sorry, I dropped out here Really, I am I know you didn't want to But I just... I wanted to know for sure If... if we worked or not Oh yeah, it's cool, I forgive you I just think... oh... oh, really? C'è una lavatrice, ma che schifo Ma non volevo vederlo con quello Ok, 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 ok Did you know I almost sold you out to the G3? They were offering like a lot of pesos to find out where you were And that would've been way worse What the fuck, Twig? You piece of shit Wait, what? You're... you're joking, right? No, I really almost did it Like I had my phone out and everything If Lizzie hadn't dragged me on this trip I probably would've I'm not good, I'm a shithead Lizzie shouldn't be dating me, Gene was right And it's a little fucked up Because he was being a misogynist But he was actually right I do suck And I'm fine with it That's just who I am And I love it So fuck off, love it Sue me if you don't like it But good luck Finding a judge who'll take that case Or a lawyer, fuck it You're a fucking idiot Well, Jesus I was about to do a whole thing about How we should take a step back And slow things down But you know what? Fuck you, Twig Yeah, yeah, Twig Fuck you Hey, thanks for coming to get me Seriously It means a lot Okay, enough Let's go You got it Smell you later, Twig Eh, si Vorrei andare anch'io Grazie Non riuscivo a tornare a casa We're back You're safe Eh, I mean Fuck you I'm gonna fuck you too Ok, happy reunion Everyone's fine Can we just get back to bed Ok, papere Mi fermo qui Che sono cotto Papere Io anche questa sera Vi ringrazio pure i follo Cille Savi Il divertimento Liiiiiii Risate Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live Io vi auguro tanta buona nanna Per l'attini Vi mando un abbraccio e un bacione E noi ci vediamo domani Notte papere Ok